Mi chiamo Lorenzo Ramini, sono l'amministratore delegato di Eletronica di Montarbo. Quest'anno alla fiera di Francoforte 2013 abbiamo portato tutte le novità che abbiamo deciso di presentare durante questa fiera. È divisa per tutti i nostri tre marchi, quindi Montarbo Made in Italy per la produzione 100% italiana, il Fai Vova e Montarbo, la tecnologia italiana che si sposa con la produzione cinese, la produzione asiatica, e la produzione di Montarbo Commercial Audio che è il prodotto che noi abbiamo come riferimento per quanto riguarda l'installazione commerciale. Diciamo che la novità più importante di questa fiera è rappresentata dalla presentazione un po' insordina, ma comunque di rilevanza mondiale della joint venture che abbiamo fatto con una società americana che si chiama Air Consola. Insieme abbiamo costituito una joint venture americana che metterà a disposizione nel brevissimo periodo una stazione mixing digitale che dà la possibilità di controllare fino a 120 canali date ritorno dal pacco senza alcun filo, che è controllato tutto interamente da dei pad wireless. Le applicazioni sono vastissime anche perché grazie ad una tecnologia che si basa su un software disegnato in maniera particolarmente fluida e semplice, ci dà la possibilità di gestire la macchina in maniera completamente flessibile. Quindi possiamo gestire il sistema sia per delle situazioni live relativamente piccole che per un palco di grandi dimensioni fino a considerare la possibilità di avere delle torri di controllo sui delay controllate direttamente da i pad. La tecnologia che ha a disposizione in questo momento è la più avanzata che è disponibile sul mercato che ci dà la possibilità a montare la sua tecnologia digitale e di fare un balzo in avanti di circa 10 anni rispetto alle tecnologie esistenti.